eccoci qua buonasera a tutti e ben trovati alla puntata numero otto dei salotti culturali di palma anche questa sera presentiamo due libri dei nostri ospiti che sono già qui ringrazio come sempre tutti coloro che abbiamo avuto le puntate precedenti e coloro che ci guarderanno questa sera e che verranno nelle prossime puntate chiunque ci sta guardando se ha delle domande a fare i nostri ospiti scrivetele pure che tra una domanda e l'altra le rivolgiamo a loro però prima di dare la parola a lidia che gli auguro la buonasera buonasera lidia apro come sempre una piccola parentesi per ricordare agli ospiti che sono qui questa sera già da tempo hanno ricevuto la locandina e la liberatoria senza liberatoria non si può andare da nessuna parte perché io purtroppo ho avuto alcuni problemi con alcune persone quindi per evitare imprevisti di questo genere vi consiglio sempre di mandare la liberatoria qualche giorno prima tutto questo perché queste persone come dicevo mi hanno detto che io prendo soldi cosa che non è vero perché io faccio le diette gratuitamente e chi viene qui lo può anche confermare e soprattutto non ho mai parlato male di nessuno e soprattutto altre cose poi che hanno rifuso proprio tutte false notizie sulle su me e sulle mie amiche detto questo chiudo subito la parentesi non mi dilungo più e passo la parola a lidia per presentarci i nostri ospiti e partire con la prima domanda prego a te lidia allora do il benvenuto ad angela casalanguida quindi tu hai un cognome molto bello che evoca qualcosa di positivo di amorevole e poi marco fedele quindi buonasera a tutte e due buonasera a voi angela scritto il libro un uragano di capelli rossi è già questo titolo mi piace il marco fedele ha scritto lo stadio che io sono onoratissima di avere editato intanto se volete far vedere la copertina del libro dei vostri libri belle copertine molto 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 colorate molto veramente vivaci come colori mi piacciono molto allora sono sono sullo smartphone non riesco bene a inquadrare a me stesso non ti voglio dire così che ci sei marco ti vedi bene bene grazie di nulla allora angela marco diteci qualcosa di voi chi siete marco inizia nella vita ok ok inizio io mi chiamo marco fedele sono laureato in chimica o più di 50 primavera sulle spalle non vi dico l'età esatta perché non ho piacere però conservo la voglia di scrivere di leggere da quando ero adolescente è una passione che ho sempre avuto e anche se mi sono laureato in chimica e oggi lavoro presso un'azienda che produce solventi e di cui io faccio le analisi continuo nella lettura e continuo nella scrittura il libro lo stadio è uno dei libri che ho pubblicato fino a oggi e che riguarda un po il mio anche un po la mia vita il mio passato perché parla comunque della vita di periferia della vita di provincia pur essendo nato e vivo tuttora a milano molti anni li ho passati in in provincia una città che si chiama corsico e di conseguenza quello che ho imparato di corsico la vita di periferia la gente diversa che c'è rispetto al al centro di milano l'ho portata anche nei miei libri infatti nel libro pur essendo un thriller è ambientato appunto in uno stadio e molto spazio viene dato ai tifosi alle loro manie alle loro ambizioni ai loro piccoli dilemmi e drammi quotidiani che sembrano essere fuscati nella vita dello stadio poi o comunque parleremo meglio di questo di questo libro certo angelo se vuoi continuare tu ok grazie allora io mi chiamo angela casalanguida il mio cognome tra l'altro è il nome di un paese dell'abruzzo visto in formolidia perché le piaceva però io sui miei libri mi firmo angela c perché nessuno lei è stata bravissima lidia se è stata bravissima a dire il mio cognome nessuno invece lo imbrocca quindi allora onde evitare ci ho messo angela c anche se poi dietro mi firmo anche con il cognome non non lo faccio per nascoltermi insomma e io non vi dico niente l'età non ve lo dico come diceva lui perché per me l'età è veramente uno perché l'età secondo me è quello che uno ha in testa perché posso essere anche una sessantenne però che ha le idee di 18 oppure una diciottenne che ha le idee da 60 quindi io continuo a dire che l'età una condizione mentale marco quindi lasciamo l'alli l'età penso di avere ancora 12 anni allora va benissimo bravo l'importante libro quello che uno propone quello che uno deve dare a me allora io ho lavorato fino a un anno fa lavoravo in fca che sarebbe l'ex fiat e a dirla tutta io ero un ex io ero una retrattivista e carrellista quindi una delle poche donne che portava i mezzi in fca un anno fa me ne sono andata per una scelta mia personale mi sono licenziata adesso faccio semplicemente diciamo quasi la casalinga forse neanche perché mi piace scrivere quindi scrivo vado faccio le cose che mi piacciono c'ho due figli come avevo detto prima marco uno è laureato già in biologia quindi è biologo e sta facendo il dottorato di ricerca all'università del molise come ricercatore invece il più piccolo se vogliamo dire piccolo e al terzo anno di ingegneria meccanica e studi a modena io ho sempre amato scrivere non ho mai avuto il coraggio di pubblicarli gli iscritti anzi poi li distruggevo pure tra l'altro poi invece prendiamo atto della cosa vengono a talivia poi nel 2020 nasce il mio primo libro piccole coincidenze è stato come mettere un esame ma proprio un esame sai quelli proprio pesanti e però dall'esame evidentemente sono riuscita promossa perché poi da quello nel seguito la dolcezza del sale e adesso il terzo un uragano dei capelli rossi e a fine mese entro fine mese uscirà anche il mio quarto libro che verrà presentato alla fiera del libro di alla fiera dell'editoria di roma verrà portato mentre la dolcezza del sale è stato due volte alla fiera del libro di torino e l'uragano dei capelli rossi no perché lo perché io alterno faccio un libro in certe un libro con le case di allora resto su angela per chiedere qual è stata la scintilla che ti ha fatto capire di amare la scrittura e quindi di metterla in pratica allora io non la scintilla io forse quello che dico sempre allora io non vivo la vivo la mia vita reale e poi vivo nella mia fantasia perché in testa sempre tante storie quindi io le vivo proprio le vivo completamente alla fine ho deciso di mettere queste storie di scriverle infatti io molte persone dicono hai il blocco dello scrittore poi quanto scrivi ti fermi a pentino io non mi fermo a pensare cioè se io la tastiera davanti l'unica cosa che mi dà un po fastidio che le mie mani sono meno veloci della mia mente anche se scrivo con tutte e dieci le dita però io vado lì e poi è ancora più bello perché a me le storie io inizio in un modo e non so come seguono perché dico che i miei personaggi vivono e quindi da soli si scrivono fanno fanno delle cose anche se io a volte penso certe volte quando vado a letto quanto vado in giro penso il seguito come proseguire poi invece no quando accendo il pc sembra veramente che i miei personaggi hanno vita e quindi si scrivono da soli e io io faccio quello che vedo che loro le loro azioni quello che fanno bene marco beh io io ho questa passione della scrittura da quando avevo 14 anni più che altro era un desiderio di mettere su carta qualcosa che provavo qualcosa che avvertivo qualcosa che desideravo comunicare agli altri nasceva anche da un da un fatto che i libri che leggevo i film che guardavo avevano tutti un finale diverso rispetto a quello che mi aspettavo e volevo forse per una forma di vendetta alle confronti di questi autori volevo decidere io come finisse la le storie in maniera che fossero più 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 non dico più plausibili ma più più accettabili prima di tutto per me e poi anche magari per gli altri è un desiderio che ho coltivato dall'ora fino a oggi e appunto trovo che poter scrivere della di quello che vedo dei personaggi che incontro delle storie della di periferia siano quelle che stiano maggior soddisfazione e che siano quelle anche più sentite perché si possono si può parlare alla maggior grande maggioranza delle persone durante i miei firmacopie quando appunto propongo in libreria il mio libro lo stadio trovo sempre molte persone che mi dicono è anch'io giocato a calcio anch'io ero un giocatore dilettante e molti possono pensare di riconoscersi nella nei personaggi del mio libro ok prima di fare la domanda intanto abbiamo i saluti di isabella galeotti che saluta tutti ciao isabella abbiamo poi mi ammogliere resta nell'altra stanza che manda pure lei un saluto e auguro la buona serata e complimenti per vostre opere presentazioni grazie mille e ti dice bellissimo il primo libro di angela sì perché lei l'ha letto lei è di parte meglio vediamo che isabella poi prossimamente sa poi lei nostra ospite anche bello allora veniamo alla mia domanda visto che avete iniziato un po accennare come chi siete un po la scintilla che fa fati inescare la passione per la scrittura raccontateci un po brevemente per incuriosire chi ci guarda di cosa parlano questi libri nel tuo caso marco lo stadio e angela il tuo pure poi ok ok come come vi ho detto come vi ho anticipato il libro si chiama lo stadio ed è un thriller ambientato nel mondo del calcio dilettantistico siamo in provincia di lodi ultima giornata del campionato di calcio di serie d la locale squadra per scendere in campo i spalti sono gremiti c'è un'eccitazione grandissima in città perché se la squadra vincerà la partita sarà promossa per la prima volta nella sua storia in serie c2 abbandonerà il grigiore del dilettantismo per la luce della ribalta del professionismo e per tutta la città ci sarà un guadagno ciò nonostante c'è qualcuno che non vuole che la squadra vinca e c'è un terzino che ha 90 minuti di tempo per scoprire chi sia e perché lo stia facendo una corsa contro il tempo prima che l'arbitro fischi la fine dell'incontro e la fine di ogni speranza come dicevo un thriller però è un thriller senza cadaveri ed è un thriller senza polizioni è un thriller che vuole non solo raccontare una storia adrenalinica ma vuole anche raccontare la vita di provincia vuol far vedere come persone di estrazione sociale diverse di cultura diversa di provenienza diversa sono con ciascuno con le proprie magagne quotidiane con le proprie ambizioni con le proprie invidie si ritrova tutta quanta unita attorno a un campo di calcio nella speranza di contare qualcosa o nella speranza di poter fare gruppo di dimenticarsi le proprie difficoltà quotidiane infatti nel libro molto spazio viene dato sia alla tifoseria sia ai giocatori i quali appunto ciascuno attraverso il pallone dimostrano di avere delle ambizioni dimostrano di avere dei sentimenti che sono diversi da quelli che si prova nella vita reale per fare questo libro infatti mi sono dovuto anzi sono dovuto sono andato nei vari stradi della provincia di milano in lombardia sono stato pizzighettone sono stato vigevano sono stato sant'angelo rodigiano ho parlato con addetti ai lavori tifosi parenti di calciatori per creare un ambiente più plausibile e più più veritiero anche nei confronti di chi il calcio l'ha seguito da vicino come il calciatore e personaggi presenti nel libro confido sempre che confido sempre che il libro e lo stadio il giorno d'oggi soprattutto in periferia abbia un significato molto diverso rispetto a quello che si può vedere nelle grandi città lo stadio è un è come il barbiere come il bar come la chi come il sagrato di una chiesa è un modo non un luogo non solo dove poter vedere uno spettacolo sportivo ma anche un luogo d'incontro di scambio di comunione e che ha la sua importanza ok ok di aver esaurito tutto quanto infatti se hai spiegato molto molto bene il concetto del tuo libro sentiamo angela invece per il suo se ce lo vuole dire sì allora un uragano dei capelli rossi e uno dei mio primo libro ambientato fuori dall italia perché io per ambientare un libro mi trovo prima la location dove possono succedere tutti gli avvenimenti che io in mente e il mio libro è ambientato a new york ma si parte con questa ragazza una ragazza il nome kendra che vive a new york e abita insieme a un'amica perché lei lavora ad un lavoretto a new york ed è una storia di una ragazza che potrebbe essere una ragazza comune perché la mia protagonista non ha niente di di vino è una ragazza esattamente come tutti gli altri e infatti io proprio da questo è partito dal fatto di essere una ragazza comune e con tutti i problemi di tutte le ragazze comuni lei perde il lavoro e si reca i suoi genitori sono di bridgeport lei si reca lì e passeggiando in riva al mare trova una bottiglia dentro questa bottiglia c'è un messaggio e nel messaggio c'è un numero di telefono qui parte la prima parte della storia il mio libro è un treccio di storie sono due storie che si intrecciano e si intersecano prima sono distinte poi si riavvicinano tutti i miei libri sono a pova alternati quindi io parlo dalla parte della protagonista femminile poi dalla parte del protagonista maschile il protagonista maschile e daniel un ragazzo un ragazzo diciamo che un pochino più di un ragazzo è uno che ha un'agenzia di pubblicità che gestisce un'agenzia rilevata dal padre questa agenzia di pubblicità e sta gestendo sta facendo questo lavoro perché gli ha portato del denaro e perché lui può avere un certo tenore di vita però per per fare questo ha rinunciato ai suoi sogni lui sognava di fare ben altro di diventare musicista ma ha lasciato tutto questo perché non è riuscito perché da quanto era piccolo ha avuto dei problemi ha avuto poi si vedrà nel libro e quindi lui dirige questa agenzia pubblicitaria le storie poi allora all'inizio sono separate poi si intrecciano perché perché nel messaggio in bottiglia quanto kendra telefonerà risponderà un ragazzo questo ragazzo non dirà il suo nome come neanche lei rivelerà la sua identità e inizieranno queste storie una storia tra i due una storia di piccole confessioni di piccole diranno molto di loro parleranno di loro dei loro desideri di quello che molto meno della vita reale e io anche perché penso che due persone che non si conoscono riescono a dirsi più cose che anche se soprattutto se non si vedono se hanno la possibilità di proprio di non di non vedersi proprio perché ognuno dei due e può essere se stessa invece poi molte volte quanto ti trovi di fronte a una persona tu devi essere quella che comunque la persona immagina che tu sia e allora ci sono più difficoltà quindi si riesce più ad essere confidenti con degli estranei con delle persone sconosciute che confidarsi con delle persone che ti conoscono e qui c'è la prima il primo lato della storia l'altra storia si intreccia perché kendra perderà il lavoro andrà a lavorare in questa agenzia e i due si si conosceranno ma per loro è veramente uno scontro perché andrea se tu l'hai letto vedi come si scontrano veramente è come veramente un uragano perché loro si scontrano litigano non vanno d'accordo avranno problemi qua c'è un pochino di mobbing nella ci sono i colleghi che non amano molto questa ragazza e quindi ci sarà la sua realtà che poi giustamente è la sua è l'altra storia che è più soft tra di loro e poi a un certo punto kendra quanto questo ragazzo gli confida perché poi realmente perché chi il lettore capisce che sono le stesse persone cioè sia kendra che che daniel sono come loro poi si faranno chiamare che ti e louis sono le stesse persone che vanno d'accordo nella chat nella chat però un disaccordo nella vita normale fino a quanto poi si scontreranno e ci saranno scintille in tutti i posti in tutti i modi sempre un aumentare continuo un ricordo diciamo così per non far capire più di tanto per poco sì che ho detto un po si potrebbe capire forse però poi però poi loro comunque parlano di realtà che vivono in posti completamente diversi quindi lui si fa un lavoro completamente diverso stanno in posti completamente diversi quindi non riescono fino a quanto poi non scoprono che sono loro due e sarà ancora peggio insomma fermati fermati prima di dare la parola a lidea con la domanda successiva c'è una domanda da isabella che scrive kendra da dove arriva allora kendra è un nome io infatti prima di scrivere trovo tanti vado a cercare la ricerca dei nomi è un nome di origine tra l'altro scozzese però è un nome conosciuto un nome che in a new york si trova perfetto allora se non c'è altro passa la parola lidea perfettivamente scozzese perché poi lei ha i capelli rossi non si è capito perché si sono a ok stavo dicendo tant'è vero che dirò che kendra ha le origini la nonna di origine scozzese ok perfetto ok perfetto passo la parola a te lidia c'è un commento sempre isabella che scrive che è molto carino grazie a te lidia l'autore dell'autrice allora in quale così punto della giornata vi va di scrivere o riuscite a scrivere e una cosa importante che mi viene sempre da chiedere fate dei foglietti scrivete dietro gli scontrini del supermercato cose del genere insomma ecco marco io scrivo in qualunque momento della giornata mi capiti anche se sono al lavoro ma questo era inutile dirlo forse sarebbe stato meglio non dire non si può mai dire io sono avvezzo a scrivere le frasi che mi vengono in mente su una su qualunque foglio di carta mi capiti a tiro e prima di procedere a copiare il libro il libro sul su computer scrivo lo scrivo tutto su dei fogli di carta sono più veloce ho la possibilità di correggere più velocemente le frasi e poi quando trascrivo i pensieri gli appunti dal foglio al computer cambio il 90 per cento delle parole pertanto la quella che si vede sul computer e la praticamente la seconda è già la seconda la terza stesura poi ovviamente ne faccio anche altre dopo aver copiato sul computer però non c'è un momento particolare in cui io non scriva non mi vengono in mente delle belle frasi che magari poi potrò usare se non per un certo libro anche per altri infatti con ma o sul computer una un file a parte in cui ci sono delle frasi dei paragoni che potrebbero restruzze che da che mi tengo a portata di mano qualora ne avessi bisogno a seconda delle necessità poi ovviamente quando le uso scrivo tra parentesi usato già in dove certo per evitare dito di averlo ripetere molto bello molto molto bello angela io no io non scrivo da nessuna parte prima non mi non mi scrivo le frasi in genere la mattina mi dedico più a casa fare servizi spesa tutto quando in c'è poi scrivo nel pomeriggio oppure anche la sera a volte il primo libro che lavoravo lo scritto di notte scusate è il primo libro fatto come parco lo scrissi prima tutto sul su un quaderno poi lo l'intenzione era di copiarlo bene uscito una storia completamente diversa allora allora da allora scrivo direttamente sul pc e poi ripeto non posso scrivere le frasi perché anche se ne penso molte volte tipo vado a fare la spesa ecco vedi io non vivo mica vado a vedere la spesa quello io so quello che devo comprare però mentre faccio la spesa penso quindi penso alle mie storie penso ai miei personaggi che stanno facendo qualcosa cioè come se li vedessi e a volte penso quello che voglio scrivere poi però quanto come ho detto prima quanto altro pc vado per scrivere loro fanno un'altra cosa e quindi alla fine mi sono arresa scrivo quello che mi viene in quel momento andrea prima come sempre prima di farvi la domanda abbiamo proprio una domanda da isabella che scrive una domanda per entrambi usate dei beta oppure alfa non so cosa siano nei beta negli alfa cosa sono ammetto la mia ignoranza anch'io forse intendeva dei lettori che leggono il romanzo prima che i beta river si sono i lettori prima chi lo legge prima prima che viene affidato a una casetrice qualcosa un giudizio primario penso dovrebbe essere questo allora io prima allora c'è io una mia amica che scrivo come inizio a scrivere un romanzo lo passo a lei anche dieci pagine alla volta e forse lei è ed è bello perché lei mi continua a chiedere o come arriva a un certo punto mi fa muoviti che voglio sapere come continua ti devi spicciare poi rimanda se io un giorno non lo faccio mi inizia a mandare tutti i disegni le facile che piangono e dice sei cattiva ti vuoi muovere sei cattiva e quindi a molte volte mi sprona ancora di più perché devo scrivere insomma eccolo i beta forti lettori alfa passo passo con lo scrittore sì io conosco i beta però l'unione beta e alfa mi ha mandato in confusione grazie infatti alfa neanche io lo sapevo ammetto la mia ignoranza poi qualche beta no l'ho usato solo con con un romanzo che non ancora verrà pubblicato tra l'altro ho usato qualcuno per le che per farlo leggere per vedere un attimo però in genere no ripeto uso c'è la mia amica che mi fa questo qua e poi anche mia cucina che però lei invece aspetta la fine perché ha detto che lei non ha la pazienza di aspettare che io finisco di scrivere quindi aspetta che finisco prima di scrivere tutto tutto quanto il romanzo poi lo legge e poi diciassi e mi dà i giudizi e poi ma più che altro per avere la certezza che non ci siano spazi temporali anche se io sto molto attenta perché poi le date che debbano coincidere cioè deve essere ben strutturata per la struttura mi serve io tendenzialmente non è alfa ne beta però ho trovato un escamotage partecipo ogni anno a un certo torneo letterario in cui uno propone l'incipit del proprio libro che sarebbe le prime 50.000 battute di conseguenza in questo torneo letterario e una certa fama si ha l'occasione sia di leggere gli incipit degli altri concorrenti e gli altri concorrenti leggono quello con cui si partecipa alla fine di questa prima parte del torneo si ricevono i giudizi degli altri concorrenti sul proprio libro e ovviamente tu che partecipi dai giudizi su quegli incipit che hai letto questo comunque è già un buon inizio chiamiamolo così per avere un feedback da quelli che potrebbero essere presumibili lettori pur con tutte le limitazioni di un torneo infatti uno dei limiti di questo torneo è quello che appunto potresti trovare sia persone intelligenti disposte a comunque a un commento costruttivo sia persone che sono degli haters e tendono a dismontare a qualunque costo il tuo lavoro comunque sia è comunque divertente lo suggerisco suggerisco di parteciparvi e comunque già come vi dicevo un inizio per avere qualche cosa su cui lavorare molto interessante questa cosa infatti suggerisco suggerisco sempre di parteciparvi non tanto per le ambizioni di successo per le ambizioni di vittoria ma quanto perché comunque è una forma di divertimento hai la possibilità sia di vedere la tua opera commentata e di ricevere dei commenti cose che le case editrici non fanno molto spesso e sia appunto di commentare i libri degli altri avere appunto uno scambio di opinioni, uno scambio di vedute anche vedere uno scambio di stili perché non sempre il tuo stile è confrontabile con quello degli altri senza considerare che comunque ricevi dei testi che possono non essere appartenenti al tuo genere letterario preferito infatti ho letto in questo caso dei romance, dei ciclit, dei fantasy che altrimenti non avrei letto perché comunque non sono i miei libri più attraenti che mi attraggono maggiormente io preferisco invece scambiare libri con il Kindle per questo io e Isabel ci siamo già conosciute su questo preferisco proprio scambiare proprio tutto il libro cioè io leggo il suo e lei legge il mio oppure con altri autori è molto bello insomma certo siamo per modi di confrontarsi diversi però io leggo tutto il libro poi capito e abbiamo i saluti intanto la buona serata che augura un saluto a tutti quanti Anna Marazzotti che la salutiamo tanto ciao Anna ciao ok detto fra di noi il problema di questo torneo a cui partecipo è che comunque ti capita di vedere, di leggere delle cose difficili da digerire in quanto chi si propone non sempre le basi culturali adatte per una pubblicazione o comunque per un torneo di questo genere senza considerare che molto spesso questo torneo viene utilizzato come sfogo per le paturnie del singolo scrittore purtroppo una volta mi sono imbattuto per dirne una in un tizio che aveva inserito delle bestemmie nel suo testo motivo per cui ho segnalato la cosa alla organizzazione e questo penso che sia stato bannato infatti tra le condizioni che si pone all'inizio del torneo è quello di non usare un linguaggio blasfemo, scurrile, razzista e così via pena appunto l'esclusione dal torneo capito ma io una volta l'ho letto un libro addirittura che c'era qualche bestemmia addirittura ai tempi prima dell'anno zero, prima di Cristo non so come hanno fatto a pubblicare un libro del genere era scandaloso ma guarda io ho letto purtroppo dei libri in cui ci sono anche pubblicati da case editrici molto note e da parte di autori altrettanto noti che però contenevano delle bestemmie capito per cui se hanno uno storico se uno ci mette una bestemmia in mezzo non pronuncio quali però addirittura prima di Cristo sinceramente come fa a sapere come facevano e come mettere un orologio nel medioevo insomma e c'è scritto addirittura che i romani bevano la cioccolata calda che neanche esisteva ai tempi dei romani la cioccolata e come dicevo io nel medioevo con l'orologio eh sì e anche Umberto Eco ha sbagliato nel suo nome della rosa mi ha ammesso che i commensali fraticelli mangiavano i peperoni quando i peperoni non erano ancora stati importati dall'America dall'America esatto infatti è un errore che per uno come Umberto Eco l'ho trovato particolarmente strano visto che ha curato ogni parola del suo libro e io l'ho letto sì infatti e devi fare te la domanda Lidia allora lo fai ho perso un attimo il filo sì abbiamo un attimo divagato eh figuro allora possiamo fare entrambe le cose che vi fate una domanda vicenda e poi leggete qualcosa dei rispettivi libri ok il tempo c'è ok volevo chiedere a Marco lui è un chimico e in genere poi si spazia nel thriller non è molto legato al suo ambiente diciamo come il filo perché possiamo dire che comunque un chimico è più una persona come dire che non va su questi racconti così insomma no? non combacia con il suo con i suoi studi beh sicuramente non combacia con i miei studi però non potevo pensare di essere una persona completa senza poter esprimere anche il mio carattere adrenalinico che appunto si manifesta nei miei libri che sono appunto thriller o fanta thriller comunque molti autori vedo che hanno hanno un percorso di studi diverso da quello che poi hanno riscontrato nei loro libri anche Marco Malvaldi che è l'autore dei delitti del barlume anzi dei libri da cui è stata ricavata la sede dei delitti del barlume è laureato in chimica ci sono molti altri scienziati che diventano poi polizionti esatto ma poi ci sono visto anche ad esempio Sandrone Dazieri che è l'autore dei racconti del gorilla e non ha non ha seguito una la via della letteratura se nei suoi studi perché comunque è un diploma mi sembra di dell'istituto alberghiero pertanto ci sono molte molte persone che comunque pur avendo un bagaglio culturale non inerente al suo titolo inerente alla possibilità di scrivere un libro comunque si cimentano in queste avventure per passione per necessità per voglia di comunicare per tanti motivi e ci riescono anche bene io invece volevo chiedere ad Angela se possibile quando è che ha cominciato veramente ad appassionarsi alla letteratura visto che io sono attratto dal thriller volevo sapere se anche lei aveva questi gusti allora io ti dirò io leggo più thriller che romance però e ti dico anche questo io ho scritto un thriller che sto aspettando di pubblicarlo perché ho scritto anche io un thriller prima o poi lo pubblicherò però io amo molto i thriller tant'è vero che i miei autori preferiti sono Dan Brown Faletti ho letto tutti i libri di Faletti tutti di Dan Brown poi ancora Larsen Stephen Larsen qualche altro italiano? italiano mamma mia aspetta ce li ho tutti qua li dovrei vedere perché ne ho letti talmente tanti allora io leggo moltissimo mi piace molto leggere e devi pensare che io quando inizio a leggere un libro cioè io non esisto più perché io devo iniziare e finirlo ci impiego tutto il giorno tutta la notte non mi interessa io resto in piedi ma se non finisco il libro non chiudo non finisco non vado a dormire insomma basta pensare a Angeli Temori di Dan Brown che è un mattone io l'ho letto dalla mattina fino alla mattina successiva insomma non ho dormito per niente ho dormito quanto ho finito quindi io leggo moltissimo e ne ho tanti ad esempio Simone non so se lo conosci sì Simone eh sì no Simone mi sfugge ok io invece ho letto tutti quanti i suoi libri e poi ripeto ma ne ho tantissimi e tant'è vero che siccome in casa non c'entrano più perché ce l'ho anche in soffitta faccio tipo Andrea perché infatti lui non c'entrano più uno scappale scorrevole in soffitta e adesso ho comprato il kinder perché non se ne poteva più perché se cade casa credo che i miei libri li reggano insomma quindi questo ti fanno le fondamenta loro sì io non riesco non riesco non uscirei mai a usare il kinder o comunque gli ebook perché comunque pure io pensavo così pure io pensavo così è che lavoro tutto il giorno con dei computer con degli strumenti elettronici pertanto se anche nel mio tempo libero mi metto a usare il computer a leggere il computer allora io ho avuto difficoltà con i primi 3-4 libri a leggerlo ve lo dico perché mi mancava la pagina da sfogliare mi mancava tornare indietro per leggere qualche parola che è stato difficile però poi alla fine adesso mi sono diciamo che mi sono abituata anche perché è stato poi il periodo del covid che non si poteva uscire nel mio paese non esistono librerie tant'è vero che chiesi al mio sindaco posso uscire fuori da pedacciata a comprarmi il libro ma ha detto no non è bene di prima necessità e ho detto vabbè compro il kinder e abbiamo risolto io ho risolto con Amazon eh sì vabbè però voglio dire quello è stato proprio un periodo perché a me piaceva proprio vabbè poi giustamente ripeto lo trovo comodo perché veramente non ho veramente spazio e poi posso leggerne tanti quindi voglio dire mi piace mi sono abituata diciamo vai leggi il pezzetto Marco prego scusa leggi il pezzetto di libro ah ok un attimo solo ce l'ho qua accanto a me penso che abbiamo una con condizioni Lidia penso che sia interessante cominciare proprio dalla prima pagina perché almeno si introduce il clima che si respira nella città al momento della partita dunque domenica 11 maggio 2003 era stata una giornata difficile inquietante addirittura sgradevole ma memorabile la Caudagonese aveva rivaleggiato con gli ospiti del Forenzolo a viso aperto in seguito per quanto la stampa avesse elogiato il vigore agonistico della squadra di casa si erano visti 11 giocatori logorati da tensioni e polemiche la verità sul nuovo stadio non sarà mai riportata sulle pagine dei giornali nei servizi televisivi però qualcosa ha trappelato e ha permesso all'intrazzatore di fare alcune ipotesi sull'esito dell'incontro in campo e fuori sino a portare all'esasperazione addirittura agli spettatori occasionali in provincia quando qualcuno non è contento del risultato di una partita straparla e tende a polemizzare confondendo la realtà con la fantasia infatti i mille spettatori presenti allo stadio ritoccarono i fatti raccontandoli a modo loro e chi non ne c'era ne parlò come se fosse stato lì in prima fila ancora oggi qualcuno ricorda l'annesto biraghi mezzo ciucco mimare agli altri del club codegono calcio le fasi salienti della partita il nasone rosso gli occhiacci vitri e schiumare di rabbia nel dire peste corna di questo di quello i nodi della questione sono stati sciolti lontano dalla società lo sport non c'entra nulla tantomeno l'accesa di sfoseria che ha ricoperto l'ingrato ruolo di pedina in mano ad alcuni strateghi dietro al campionato della Codagonese ci sono stati i giochi di potere di un gruppo di affaristi della domenica che si credono Briatore Berlusconi capaci solo di combinare dei pasticci dei quali è stato difficile uscire questo penso che sia un'introduzione migliore per appunto spiegare il libro la sua filosofia e soprattutto il mondo in cui ci si muove quello della periferia fatta sia degli Ernesto Biraghi e degli strateghi da bar sia quelli degli affaristi di provincia che appunto pensano di fare il passo fanno il passo più lungo della gamba e agiscono di sopra delle loro possibilità ritenendosi comunque degli maghi della finanza ok Angela ok leggo il mio incipit perché così forse si capisce bene allora io su ogni capitolo metto il titolo qui teoria di vita se qualcuno ti dice che sei l'artefice del tuo destino fatti una grassa risata ognuno di noi nasce già inserito in uno schieramento se nasci marmitta al massimo schiottetti non puoi diventare ciminiera se nasci bicicletta come puoi aspirare ad essere una poliserie se nasci zattera non sarai mai un transatlantico eccolo ho detto io sono nata a zattera con il transatlantico per transatlantico intendo quelle ragazze corazzate alte un metro e novanta con due metri di gambe e mozzafiato ti starai chiedendo se ho sbagliato se sono alto un metro e novanta come fanno ad avere due metri di gambe non lo so ma ti giuro che è proprio così un culo di bomba tonica due tetti da coppe di champagne e poi mi chiedo sono nate prima le tette e poi ci hanno fatto il calco delle coppe di champagne o prima le coppe e le tette le misurano di torniamo a noi per zattera intendo una che può essere alta o bassa non ha importanza le gambe servono solo per muoversi il sedere sta lì riempie i pantaloni le tette si divertono a fare quello che vogliono ma a 15 anni non li vedevi neppure con il binocolo che ti permette di vedere le foco al polo nord a 28 non smette mai di crescere la transatlantico ha un viso da bambola di ceramica liscio bianco mai un brufolo un'occhiata labbre da sogno trucco perfetto secondo me nascono già truccate le vedi la mattina in metropolitana alle 7 sono perfette nessuna sbavatura rossetto impeccabile e a che ora si svegliano mi chiedo il viso ogni volta che mi guardo allo spetto scopro un piccolo brufolo come una tappa che cerca di farsi strada in un orto dormo con il volto acqua di pomata disinfettante alla mattina mi sveglio alle 3 prima della metro precedo gli operai della nettezza urbana fondotinta fardo ombretto eyeliner trucco perfetto danza da finale di super ball passiamo all'altro occhio eyeliner la linea storta salvietta struccante ricomincio guardo l'orologio mi devo sbrigare ho tolto anche l'ombretto lo rimetto è troppo tardi maschera rossetto e scappo ho una scatola con 10.000 rossetti neppure un truccatore del cinema è una silimide collezione lo metto il tempo di vestirmi è già sbavato la giusto la giusta un po' di fart per fermarlo ma nella speranza che è sempre presentabile vogliamo parlare dei capelli della transatlantico saranno veri o parrucche piega impeccabile colore luminoso si muovono con eleganza come se fruttuassero nell'aria il vento non li scompiglia al massimo gioca con loro con una danza sensuale i miei tre piastre due fon creme balsami schiume lacca cera un'ora attirare lisciare e piastrare già il colore da rendersi quante persone incontrano i capelli rossi io sono una di quelle i miei nonni erano di origine gallese e tra i nipoti io sono l'unica con i capelli rossi dopo un'ora di messa in piega possiamo definirli gradevoli questo è per far capire ma io credo che questo è nato proprio dal da una mattina del mio lavoro io quando andavo in fiat iniziavo il turno alle 6 di mattina e molte volte io arrivavo che manco ci vedevo cioè certi mi dicevano buongiorno oppure salivo in pullman perché per arrivare in fiat io dovevo salire in pullman e io quando salivo in pullman non vedevo neanche che ci fosse a fianco a me a sedile mi mettevo lì e dormivo già fino a quanto arrivavo al lavoro arrivavo al lavoro vedevi le mie colleghe truccate con i capelli fatti tutte aggiustate io ho quattro sciarpe e cappello cioè tutto e loro invece erano veramente sembravano uscite dal padrucchiere e da qui mi è partita l'idea capito molto originale ma no avevano dormito lì e quindi erano già io a volte dicevo erano già pronti sul posto di lavoro io dicevo togliete la testa la notte fatemi capire ma come fate a truccarvi alle 4 di mattina che io manco l'occhio me lo vedo in realtà aveva una maschera sopra che copriva l'intero volto e la tolgono quando quando escono se la tolgono ah ok però è una maschera di cera sicuramente o di plastica da indossarsi all'occorrenza già con tutto il kit di trucco messo sopra e da qui è partito l'incipit e poi la storia è andata avanti ok ok io allora visto che tra poco siamo quasi in chiusura che già un'ora è quasi volata alla grande volevo chiedervi tre motivi per leggere il vostro libro cominci tu stavolta Angela ok allora tre motivi il primo perché vi farà divertire 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 e poi alla fine piangerete anche manca il terzo ah il terzo è perché non ne trovate un uguale i miei tre motivi sono primo perché comunque è una storia adrenalinica una lotta contro il tempo come dicevo prima pertanto se vi piacciono i gialli o i thriller che sono appunto corrono sul filo del rasoio questo libro fa per voi in secondo luogo perché comunque mi rusingo di aver aperto le porte su un mondo che molto spesso non è conosciuto come quello appunto del calcio dilettantistico in terzo luogo perché non si parla di capitani e di re ma si parla appunto della vita di provincia e pertanto ciascuno può riconoscere se stesso ognuno dei tifosi ognuno dei calciatori ognuno di quelle 5.000 persone che gravitano attorno a un campo di calcio ok perfetto motivi molto molto valvi e molto interessanti entrambi Lidia a te prego allora dove si possono trovare i vostri libri e dove le persone possono trovare voi vai Marco tu o io ok io sarò reperibile domenica non dopo domani domenica 20 presso la libreria Red Feltrinelli di Viale Sabottino a Milano dove terrò un firma copia appunto del libro allo stadio comunque il libro il libro è reperibile appunto attraverso qualunque libreria d'Italia è ordinabile o comunque attraverso il sito della casa editrice e le mezzelane che appunto provvede a fornire chi ne fa richiesta attraverso appunto il sito poi le altre firma copia se ne parleranno l'anno prossimo non a breve allora il mio libro lo potete trovare qui lo potete trovare su Amazon come tutti gli altri tutti gli altri libri che ho scritto e inoltre per contattare me basta trovare Angela Casalanguida su Instagram oppure Angela C. Autore su Facebook a me fa piacere se le persone mi contattano è la cosa più bella che ci sia secondo me lo scambio di idee lo scambio di confrontarci con gli altri certo e io sono stata presente già alla fine sarò presente i primi di dicembre a Roma dove porterò il mio nuovo libro e qua lo dirò per la prima volta vi anticipo il titolo il titolo è Il coraggio il coraggio di Brianna ed è un libro ambientato in Irlanda ed è un libro molto molto bello perché c'è una cosa che voglio dire allora nonostante i miei libri siano divertenti perché io sono molto ironica nei miei libri c'è sempre una donna una donna che lotta e una donna forte e la cosa che volevo precisare è che molto spesso chi legge i miei libri dice che a parte emozionarsi perché i miei libri veramente sono emozioni molti mi dicono sei la scrittrice che invece di scrivere parole scrive emozioni però alla fine del libro c'è sempre un messaggio il messaggio di non arrendersi e di inseguire sempre i propri sogni perché anche in questo libro alla fine Daniel scoprirà che lui ha rinunciato è vero che ha avuto tutto dalla vita perché ha tante cose come Andrea ci ha letto però lui aveva rinunciato alla cosa più importante della sua vita inseguire i propri sogni infatti mi ha lasciato un po' con la mano questo passaggio quando ci sono arrivato però poi sì sì no no non dico nulla mi fermo qui sì sì ok scusate aggiungo solo una cosa anche io anche il mio libro è reperibile su Amazon prima sono dimenticato di dirlo dove possono trovare te che Marco prima non l'hai detto hai detto solo il libro se uno volesse contattare te attraverso sempre Facebook perché appunto sia la pagina riguardante il libro oppure attraverso appunto il mio account di Facebook come Marco Fedele sono sempre disposto a ricevere appunto commenti dare risposte a eventuali precisazioni o soddisfare eventuali curiosità quindi apposta chi è che ci sta guardando se vi siete incuriositi prendete nota e ordinate questi libri e soprattutto dopo averli letti una recensione male non fa mai certo io lo ammetto lo faccio sempre dopo averlo letto due volte i libri perché io i libri li leggo sempre due volte poi faccio la recensione sono sempre abitudini non consecutivi in mezzo ne metto altri poi lo riprendo in mano più avanti posso aggiungere una sola cosa allora io oltre a scrivere libri ho scritto anche per altre per altre diciamo altri racconti e un racconto di questi è appena uscito con la Pave Edizioni ed è abbiamo fatto un libro per visto che stiamo nel mese di novembre diciamo che siamo quasi arrivati alla giornata per contro la violenza sulle donne è appena uscito un libro dove c'è un mio racconto che parlo è un racconto diciamo che sul tema delle ragazze delle donne iraniane è un tema io anche l'anno scorso con le storiche edizioni ho pubblicato anche un altro racconto sulla violenza sulle donne e quindi mi interesso molto di questi problemi e sono vorrei spezzare una lancia contro queste qua e forse nei miei libri questo che io continuo a dire non cerchiamo di crearci alibi siamo tutte donne siamo comunque persone come gli altri e dobbiamo comunque pretendere il rispetto da tutti giusto giusto un'ottima infatti l'altra volta quando mi hai mandato questo libro posso dire che l'ho letto mi dicevi di leggere l'ho letto è stato molto bello grazie quello di cui mi hai mandato tutto l'altra volta Andrea allora visto che abbiamo parlato di libri e queste cose qui avete dovuto se si trovano cosa bolla in pentola avete qualche progetto o progetti futuri al momento sono in una fase di stallo nel senso che ho da poco all'inizio del mese ho finito di scrivere un libro che vedrò deciderò in futuro a chi e quando presentare adesso ho soltanto alcune idee nella testa ma non c'è niente di concreto prima di proprio inquarmi a svolgere un nuovo libro vorrei avere la trama ben delineata stavolta perché di solito mi fermo a metà che non so più come andare avanti e allora perdo molto tempo nel cercare di trovare una soluzione alle mie elucubrazioni che molto spesso mi si ritorgono contro ho capito Angela e come appena detto ti avevo anticipato che sia parte di questo libro o altri di tuo sì sì altro è che spero perché io ho già pronto un altro libro da pubblicare per l'estate prossima però all'altro penso di pubblicarlo con Amazon te l'ho detto alterno un giorno con la pave e inoltre io sono stata quest'anno quest'anno in vacanza alle Canarie e ho scritto un altro racconto che sto finendo ambientato proprio alle Canarie ok Lidia è qualcos'altro da chiedere visto che tanto siamo in anticipo anche chi ci sta guardando uguale se avete qualcosa da dire scrivete pure se volete soprattutto così io taccio per me è molto è molto facile parlare del libro di Marco che mi è piaciuto molto l'ho proprio spulciato scusate il termine ma è così l'editor questo fa e dà una mano dove serve fra le tante altre cose di Angela mi piace questa questa come posso dire maggioranza di di femmine di donne sì ci sono i fidanzati ci sono gli amici però mi pare di capire che nei tuoi libri la donna sia sempre presente con le sue storie i suoi drammi non lo so appunto la piega che non tiene queste cose qua però sappiamo che le donne sono molto di più di un make up di una piega che non tiene eccetera eccetera e questa è una cosa che mi piace perché si capisce perché mi piace perché molto spesso le donne non sono le protagoniste della narrativa soprattutto che ne so i gialli dei thriller Marco mi uccide e quindi insomma se si tratta di un bromesco quello che io chiamo la narrativa sentimentale perché non mi piace chiamarli romanzi rosa perché non sono solo rosa benvenga questa cosa quindi grazie grazie insomma per dare il giusto mettere nella giusta luce sotto i riflettori l'elemento femminile vabbè Marco praticamente l'ho messo da parte no io volevo dire questo infatti quanto non ancora eravamo in onda io ho detto i miei romanzi possiamo dirvi rosa ma non sono poi così rosa sono racconti sono infatti non ci sono storie pezzi così sdolcinati oppure ci sono scene di sesso queste cose qua no è molto ripeto Andrea l'ha letto quindi chi l'ha letto sa diciamo che è proprio una storia io direi proprio sono pezzi di vita dei miei protagonisti storie di vita di questi protagonisti e ci sono molto sono pezzi non diciamo neanche noiosi perché comunque ci sono storie che vanno avanti che precedono molto molto rapidamente quindi racconto proprio è come raccontare giorno per giorno la vita questo racconto che questo trance della loro vita bene Marco beh tu lo sai io non ho solo editato il tuo libro no proprio non lo sono gustato perché come dicevi tu prima hai analizzato in un modo veramente profondo la vita di periferia o comunque la vita di provincia e mi ha illuminata sul mondo delle delle squadre possiamo dire di serie D anche se la serie D dilettanti eccetera poi c'è anche il piglio giornalistico che mi interessa moltissimo per tanti motivi e l'approfondimento dei personaggi Vismara che chi vorrà leggere questo libro potrà conoscere è davvero un personaggio molto particolare con tante magagne e tanti tic che lo rendono interessante anche se posso dirlo sgradevole a volte sì certo Vismara è proprio il non dico che sia il vero villain del racconto però è quello che vuole fare il passo più lungo della gamba è quello che cerca di un suo riscatto personale e che viene messo con le spalle al muro nonostante tutto il suo impegno e tutta la sua devozione questo può capitare a chiunque in qualunque ambiente soprattutto nel mondo del lavoro quante persone hanno dato non dico la vita ma hanno dimostrato il loro attaccamento all'azienda e si trovano licenziate dall'oggi al domani per dirne una questo succede anche a lui come direttore sportivo della squadra che sto penso che di cui ho trattato anche se la squadra non esiste pertanto è un personaggio che comunque è emblematico all'interno della sua vicenda all'interno della vicenda si si può dire che sia il perno attorno al quale gira si può dire si può dire un perno suo malgrado si va bene basta mi fermo perché sennò qui ne fai un altro che un'ora ok grazie grazie a voi ok allora io vi ringrazio per essere stati con noi speriamo che vi siete divertiti prego a voi figuratevi se volete tornare i nuovi ospiti nella prossima edizione fatemi sapere che vi prendo nota perché già abbiamo diverse serate lo dico già prenotate quindi tra un po' non so se continuano così a segnarsi dovremo chiudere le iscrizioni già ancora prima di finire questa edizione perché si sono segnati veramente in tanti eh guarda per la prossima edizione adesso non si sa quando si inizierà poi dopo c'è ancora molto molto tempo vi faremo sapere tanto ancora non c'è problema di sapere quando farlo e detto ciò si ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito ringrazio te Lidia per essere stata qui con me questa sera e ringrazio di nuovo Marco e Angela e anche a coloro che ci hanno seguito chi ci ha scritto chi ci ha fatto domande e ci rivediamo mercoledì invece che saremo come ospiti avremo Maria Teresa del giornato e Giuseppe Storti e con questo è veramente tutto buonasera a tutti e buonanotte ciao 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 ciao